Annullati i sequestri ai big della ex banca Etruria, la Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio il blocco dei beni disposto contro alcuni degli ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino. Adesso si dovrà dunque ripartire da un nuovo verdetto del Tribunale del Riesame che dovrà pronunciarsi alla luce dei principi affermati dai giudici supremi. Il sequestro non è stato ritenuto valido con riferimento alla parte del cosiddetto pericolum immora, cioè sostanzialmente doveva essere valutata la domanda risarcitoria, l'entità della domanda risarcitoria doveva essere valutato il patrimonio di ciascuno dei vari imputati che il sequestro aveva ricevuto. Questa proporzione tra domanda, il suo valore e dall'altra parte il valore del patrimonio non è stato esaminato. Le motivazioni della sentenza si conosceranno solamente nei prossimi giorni, ma intanto la quinta sezione della Corte Suprema ha accolto la richiesta della Procura della Cassazione che aveva chiesto l'annullamento con rinvio per il sequestro disposto ai danni degli ex vertici esclusi l'ex presidente Fornasari e l'ex direttore generale Brunchi giudicati con il rito abbreviato. Noi avevamo chiesto sia sul Fumus Bon Iuris che sul pericolum immora l'annullamento, mentre la Procura ha chiesto l'annullamento solo sul pericolum e con rinvio al Tribunale per il riesame proprio perché possa applicare il principio di diritto che verrà enunciato nel provvedimento della stessa Cassazione. Il sequestro dei beni mobili ed immobili era stato disposto a garanzia di un potenziale risarcimento danni come richiesto dal liquidatore Giuseppe Santoni per 116 milioni in relazione al processo per bancarotta che è ripreso questa mattina. È stato infatti il giorno degli ispettori di Banca Italia. Il primo a presentarsi in aula è stato Vincenzo Cantarella, protagonista dei controlli del 2010 che si conclusero con un esito parzialmente sfavorevole. È stato poi il turno dell'altro ispettore, colui che contribuì in maniera decisiva all'epilogo della ex Banca Etruria Emanuele Gatti, colui che dal 2012 al 2013 fece un'ispezione approfondita sulla qualità dei crediti della governance della Banca Etruria che portò infine alla lettera del governatore Ignazio Visco, con la quale si impose alla ex Banca Etruria di aggregarsi ad un altro istituto di elevato standing perché non era più in grado di stare in piedi da sola.